Manca meno di un quarto d'ora alle 11 di un martedì mattina di metà febbraio. La statale Ogubina, che collega Gubbio con Perugia all'altezza delle frazioni di Mengara e Scritto, si presenta così, priva di traffico. In 20 minuti si contano una manciata di auto, a 10 impossibile arrivare. Fino a pochi anni fa qui transitava chiunque volesse andare o venire del capoluogo. Oggi l'apertura della Perugia-Ancona ha di fatto svuotato una strada effettivamente da panico per i suoi tornanti, ma con essa anche le attività commerciali. Parte da questa riflessione testabile sul campo un'interrogazione del consigliere comunale di Gubbio Rinasce Libera e Giovani Territorio Ambiente, Orfeo Goracci, per chiedere all'amministrazione comunale misure in aiuto all'economia locale al collasso, l'azzeramento delle tasse locali o, in alternativa, un robusto taglio. A scritto oggi vivono una ventina di persone e il bar alimentari del paese sarà breve l'unico presidio rimasto di attività commerciale. La farmacia ha infatti ottenuto lo spostamento a Ponte d'Assi. Qui resterà aperto solo un armadio farmaceutico aperto in alcuni giorni ed ore prestabiliti. Resistono poco più su le poste. La scuola non c'è più, anche la messa domenicale non è più una certezza. Si fa a giro, una volta a testa, tra le parrocchie della zona, tra Ballingegno, Belvedere e dintorni. Serrante abbassate in bar collegati a servizi come il distributore di benzina, agriturismi in affanno. Davanti a questo anche il cuore può cedere. La farmacista, che da 35 anni opera in questa zona e che conosce tutti, ha trovato a malincuore il coraggio di andarsene. Fuga da scritto si potrebbe titolare se fosse un film, ma di fatto è realtà. Se qui è la nuova direttrice viaria ad aver inevitabilmente segnato il declino, altre ragioni stanno alla base dello spopolamento commerciale dentro le mura di Gubbio, del quartiere di San Pietro e Corso Garibaldi in particolare. Oggi quest'ultimo è una sequenza di cartelli affittasi, appelli che restano per la gran parte disattesi. Non tutto il centro, per la verità, è così. Il quartiere San Martino di Contro vive un periodo di attivismo commerciale come non si era mai visto, complice una logistica che aiuta dai parcheggi alla struttura stessa del quartiere storico. Sulla crisi di attività in centro si è appuntata l'attenzione del consigliere comunale della Lega, Michele Carini, con una mozione che chiede al comune il varo di una no tax area per le rieperture in centro, agendo su IMU e Tari e coinvolgere le associazioni di categoria per concordare locazioni di maggior favore. Aiuterà? La crisi commerciale nei centri storici non è soleugubina, è pandemica ovunque.